Il presebacino di Marco Mengoni, che lui stesso ha utilizzato al festival della canzone italiana, quindi a Sanremo nel 2024, sembra che stia andando letteralmente a ruba. Infatti viene venduto sul web, quindi qui su internet, ossia online, per la bellezza di circa 100 euro. Va bene? Tutti infatti si stanno letteralmente scapicollando nel volerlo a tutti i costi. Perché? Perché? Perché molte ragazze e donne, come anche molti ragazzi che amano in senso affettuoso il grande Marco Mengoni, dicono a gran voce, se lo ha baciato lui lo compro subito. Insomma, è diventato una sorta di vestillo, una sorta di strumento di grande bellezza, di grande fascino. Per il più, la maggior parte delle persone, ripeto, che se lo stanno letteralmente contendendo, e il suo web costerebbe circa 100 euro. Lo compro anche subito, qualcuno addirittura riportato su internet. E voi? Lo comprerete il presebacino? Sta di fatto che sta letteralmente spopolando. Si tratta di una sorta di, chiamiamola piccola lavagnetta di colore bianco, incastonata appunto in questa, chiamiamola, in questo bastone bianco, e si vede qui in un frame, un mangonico a barba, che accosta le labbra a questa lavagnetta, e dall'altra parte, madonna, una ragazza, non si sa chi sia. Bene. E una lavagnetta bianca, ripeto, 100 euro, 105 con l'IVA inclusa, per un prodotto che sta andando a rubare. Bene. Comprimente al grande Marco Mengoni, e al suo presebacino. Iscrivetevi, se vi va, commentate. Una buona serata.